Questa cosa? Com'è sta cosa? In che senso? Le città grandi quali sono? Le città grandi non so se possono essere definiti, San Cristobal della Casa si è già una cittadina abbastanza grande per le dimensioni che ho visto in Ciabati. In San Cristobal c'era addirittura una piazza dove c'era un gruppo, c'era una bella protesta, devo dire, una bella protesta, avevano occupato una piazza, in modo che c'erano le tende, una cucina da campo, e chiedevano giustizia per quanto pare c'erano stati dei moti repressi in modo abbastanza violento. Era molto bello perché era molto partecipato, tutto sommato mi sembrava qualcosa per noi fuori tempo. Certo. Esatto, quelle cucine da campo, l'atmosfera che era, l'atmosfera era veramente di alto in tempo, io qualche cinquant'anni indietro mi sentivo stando là. Sì, sì, ciao. E abbassa la rivoluzione zapatista. All'alba del primo gennaio 1994, il giorno dell'entrata in vigore del NAFTA, North American Free Trade Army, il Trattato di Libero Commesso da Canada, USA e Messico, migliaia di persone incappucciate, invadono e occupano diverse città dello stato del Ciabati. Nel sud del Messico, un'operazione a sorpresa, la città di Ocosingo, Altamirano, Comitan, Sanctus Guastan, della Scasa, dalle altre sono occupate e cadono sotto i controlli di un gruppo guerrigliero. La palazzo municipale di San Cristobal della Scasa, il subcomandante insurgente Marcos, portavoce degli insotti, legge la prima dichiarazione della Selva Lagandona. Si chiama esercito zapatista di liberazione nazionale. Solo sono per la maggior parte indigeni, che indichiarano guerra alla Selva Federale, l'obiettivo è avanzare su città e dal Messico per i diritti alimentari, casa, terra, alimentazione, salute, educazione, lavoro, autonomia, dignità, democrazia, giustizia e libertà. Noi siamo il prodotto di 500 anni di lotte, prima contro la schiavitù, poi durante la guerra di indipendenza contro la Spagna, capeggiata dai ribelli, poi per evitare di essere assorbita l'espansionismo nordamericano, poi ancora per promulgare la nostra Costituzione ed espellere l'impero francese dalla nostra terra. Poi la dittatura di Porfirio Diaz ci negò la giusta applicazione delle leggi di riforma. Il popolo si ribellò e emersi di suoi leader come Villa e Zabbata. Povera gente proprio come noi, uguali come noi, è stata negata la parlamentare preparazione, così possono usarci come carne da cannone e saccheggiare le risorse della nostra patria. E non importa loro che stiamo morendo di fama, di malattie curabili. E non importa loro che non abbiamo nulla, assolutamente nulla, neppure un tetto degno, né terra, né lavoro, né assistenza sanitaria, né cibo, né istruzione. E neppure abbiamo diritto di eleggere liberamente e demoralmente i nostri rappresentanti politici, né via indipendenza dallo straniero, né via pace e giustizia per noi e per i nostri figli. Ma oggi noi diciamo basta, noi siamo gli eredi dei veri costruttori della nazione. Noi, gli espropriati, siamo milioni e perciò chiamiamo a raccolta tutti i nostri fratelli perché si uniscono in questa lotta, che è l'unica strada per non morire affamati davanti all'impastabile ambizione di una dittatura di più di 70 anni, guidata da una ditta di territori che rappresenta i gruppi più conservatori e venduti. Sono gli stessi che si opposero a Hidalgo, a Morelos, sono gli stessi che tradirono Vicente Guerrero, gli stessi che vendetero più metà della nostra terra agli invasori straniere, gli stessi che importarono un principio europeo per governarci, gli stessi che dietro vita alla dittatura degli scientifici porfiristi, sono gli stessi che si opposero all'espropriazione del petrolio, che masticarono i ferroviieri nel 1958 e gli studenti nel 1968. Sono gli stessi che oggi ci spogliano di tutto, assolutamente di tutto. Per fermare ciò, tutto ciò è come nostra ultima speranza, dopo aver tentato di utilizzare ogni possibile mezzo legale, basato sulla nostra carta magna, torniamo ancora ad essa, alla nostra Costituzione, per applicare l'articolo 19 che dice la sovranità nazionale ha la sua origine e essenza nel popolo, tutto il potere politico emana dal popolo e si costituisce per il beneficio del popolo, il popolo ha in ogni momento l'inalienabile diritto di cambiare o modificare la forma del suo governo. Pertanto, nello spirito della nostra Costituzione emettiamo la seguente dichiarazione di guerra all'esercito federale messicano, pilastro di base della dittatura che subiamo, monopolizzata dal partito del potere guidato dall'esecutivo federale, che oggi ha in Carlo Salinas e De Gortari il suo capo più importante e legittimo. Coerentemente con questa dichiarazione di guerra chiediamo agli altri popoli seri della nazione di adoperarsi per ripristinare e legittimare la stabilità della nazione, deponendo il dittatore. Chiediamo anche all'organizzazione internazionale, la croce rossa internazionale, di sorvegliare e regolare i combattimenti con le nostre forze, che le nostre forze librano, assicurando la protezione alla popolazione civile. Prima dichiarazione della selva, la gandona. Puoi spendere Stalin, però non possiamo mettere perché vogliamo Stalin a me. Sì, sì. 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 Sì.